Quindicesima giornata del campionato di Serie C maschile girone A, quella andata in scena al Palaitis di Arezzo con la sfida tra GRM e Club Arezzo e la quotata formazione del Valdarno. Reduci da un'ottima prova inamichevole contro la formazione di Serie B di Città di Castello, la formazione di Morelli cercava una vittoria che oramai manca da qualche turno, si sapeva che non sarebbe stato un match facile, così è stato. È arrivata una maga sconfitta per 0-3. Il Club Arezzo a confronto della formazione del Valdarno, seconda in classifica generale, non è riuscito a offrire una prestazione sufficiente a contrastare quella che ormai di fatto è una delle formazioni più accreditate alla conquista del campionato. È stata una bella partita, chiaramente è un derby, i derby sono sempre sentiti, quindi l'avevamo preparata bene, ma sapevamo che loro sono primi, secondi in classifica, quindi sarebbero venuti chiaramente per vincere, hanno fatto una bella prestazione, sono contento che anche i nostri ragazzi ci hanno provato, hanno fatto tutto quanto era possibile, peccato rammarica solo sul primo set perché il secondo e il terzo alla fine li abbiamo giocati, poi chiaro qualche errorino si poteva evitare e niente.